Stiamo a Tori Show con questo fiorentino mezzo torinese che ci sta offrendo un giro inferiore Con una bottiglia di vino abbiamo appena finito Viva Fiorezza! Michele Giordano! Michele Giordano! C'è una cameriera leccatora, ovviamente non gliel'abbiamo data Adesso ci troviamo di fronte a parlare della signoria Vabbè c'è il dance, c'è il dance A fare un giro del show Basta! Questo qua è mio! Volevo iniziare a dire che bello, che bello! Oh, che bello! Che bello! Anzi, in piemontese Ma guarda, ma che bello il calese! Che bello! Che bello! Come te chiami tu? Torino, ragazzi! Mario! Mario! Mario Gesù! Vintia Gesù! No, non scherzare! Hai beccato le più anticristo di Culeo! Lo sai! Le più anticristo di Culeo! Perché di Chanel noi ci facciamo una pippa! E di Chanel! Perché Chanel! Perché Chanel gioca! E noi siamo di Torino! Allora! Allora! Aspetta! 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 Che non c'è una storia! Staci tutti! Non c'è una storia in piemontese! Ok, come pappapapapa! Il video è stato uscito! Bapapapapapa! Allora! 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 Fumano lezioni.. Fumano lezioni piemontese, come numa fette a berlin. Sono i Vacc 앞... Allora, ora abbiamo tre frasi che penso di ora, sempre che ora vanno in giro e la stessa del porto è divertente. La prima è due per un ma nient'altro, questa è fondamentale. Giù fa, giù fa, aspetta il bestiale è dopo, la seconda è 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 la seconda. Giù ce lo amo. La terza e la quarta è la veniva Diofa!